ok ciao a tutte ragazze noi siamo di brochet e che è un'azienda che fa trucchi cosmetici creme siamo quasi vicinissimi a voi siamo qua dietro due vie più in giù abbiamo i nostri uffici e facciamo parte del della squadra di formazione quindi che qualche cosa facciamo noi andiamo a insegnare agli altri come utilizzare i prodotti quindi come si mette la crema come si mette lo smalto come si mette il rossetto anche oggi lo metteremo a voi abbiamo una sorpresa per voi poi l'avete già fatto so che le vostre educatrici vi coccolano ogni tanto no prima di mettere la crema dobbiamo lavare bene il viso è un prodotto molto semplice da utilizzare è anche uno dei miei preferiti perché toglie via tutto lo sporco che abbiamo sul viso ed è l'acqua micellare fate così mettete un po sul dischetto di cotone vedete qua diventa sporco perché sono truccata ti aiuto eh vi è piaciuto il profumo? mi è piaciuto? bene bene allora adesso abbiamo tolto un po' tutte le impurità è un'acqua floreale alla camomilla che va bene anche per le pelli più sensibili e va proprio a rinfrescare tutto il viso così e vi si rinfresca tutto il viso uno due bene adesso passiamo al nostro pezzo forte ovvero il siero e la crema viso andate a fare questa gestualità così dovete fare così poi fate così una volta che abbiamo quindi messo il siero mettiamo la nostra crema arrivo ragazzi mi metto passiamo alla parte di smalto in modo che la crema si assorba facilmente sul viso se qualcun altro c'è bisogno che posso aiutare anch'io eh è lì questo qua è bello se si è abbronzato è bello io vedi non ho andiamo a mettere il il blush sulle sulle guance tetta franci rosso Grazie a tutti. Bene, ragazze, allora. Grazie.